Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi parlerò di Girada.it, un sito da cui ho acquistato una Switch. Perché vi sto parlando di questo sito? Perché è molto conveniente, ci sono degli sconti che addirittura superano il 70%, infatti questa Switch io l'ho acquistata al prezzo di 130€, adesso vi spiego il motivo. Praticamente Girada funziona in questo modo, prenoti un prodotto su Girada, dopodiché trovi altri 3 amici che vogliono lo stesso prodotto e in questo modo potrai avere il tuo prodotto ad un prezzo molto inferiore rispetto al prezzo di mercato. Cosa succede? Come si acquista su Girada? Ci sono per esempio delle diverse liste, in questo modo anche se non trovi i 3 amici magari li trovi online. Partecipo a una lista che si chiama Girada Bro e grazie a loro e grazie al codice che mi danno io riuscirò a trovare anche gli altri 3 amici che mi servono per acquistare per esempio la Switch a 130€ invece dei 350€ che mi propongono in negozio. Prima di trovare gli amici bisogna però usare questo bot, se siete esperti di Telegram sapete già cos'è un bot, se non lo sapete è una chat automatica che ti risponde in automatica dei messaggi che mandi tu e questo bot appunto ti aiuta ad acquistare il prodotto. Come? Ti manda dei messaggi, tu rispondi a determinati messaggi e mano a mano passo passo ti guida fino alla prenotazione del prodotto. Con Girada Bro appunto puoi ricevere questo prodotto ed è molto conveniente questo passaggio perché riuscirai ad avere il prodotto a 130€. Come funziona? Prenoti il prodotto e gli altri 3 amici che acquistano il prodotto insieme a te, se invece non riesci a trovare 3 amici o ne riesci a trovare comunque 2 o 1 è uno sconto che è diverso del 50% oppure per esempio del 25%. Comunque sia sicuramente risparmi. Mi sono affidato a Girada Bro perché appunto è una lista che lavora insieme a tutti gli acquirenti in maniera molto trasparente e che lavora con una vera e propria squadra. E ho acquistato grazie a loro perché ho trovato molta trasparenza e molta sincerità. Ho acquistato una Switch come vi ho detto quindi fra qualche settimana vi arriverà appunto l'unboxing della Switch, l'apriremo insieme. E se siete dei nerdoni magari ci farà anche qualche gameplay, vedremo un po'. Consigliatemi anche dei giochi se volete qualche gameplay di qualche gioco particolare. Ne approfitto di questo video per dirvi usciranno degli unboxing piuttosto nerdosi. Come per esempio i giochini di Star Wars, i giochini dei Pokémon, del Mac e robe di questo tipo. Io vi lascio tutti i link sotto in descrizione se siete interessati alla cosa. Questa era la presentazione di Girada e il mio avviso del fatto che comincerò a collaborare con loro. Bella a tutti ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video. Adios!